Ripetere lo splendido avvio di 2016. Gela ed Atletico Gela domani saranno nuovamente in campo dopo i pacchi dono da tre punti trovati nella calza della Befana. In eccellenza la squadra maggiore cittadina torna a giocare al Vincenzo Presti per ospitare quella folgore selinunte che all'andata inflisse la prima sconfitta stagionale al team caro al presidente Angelo Tuccio. Reduce dal brillante e convincente 3-0 di Raffadali il Gela di mister Totò Brucculeri tenterà di allungare la serie di vittorie consecutive che dura oramai da tre turni per continuare a dare la caccia alla capolista sancataldese domani di scena Mussomeli in un delicato derby nisseno e che al momento vanta appena un punto di vantaggio sul Gela. Senza lo squalificato capitano Bonaffini e col dubbio sul recupero del difensore centrale Russello mentre sarà ancora out il centrocampista a tre piedi quello che scenderà in campo contro la folgore di selinunte sarà un Gela lanciatissimo e oramai proiettato verso il salto diretto in serie D. Sarebbe il quinto balzo in avanti di fila per il delfino bianco-azzurro sempre più protagonista del calcio dilettantistico siciliano. Appuntamento dunque domani a partire dalle ore 15 allo stadio di Vieniscemi per un succoso Gela-Folgore-Selinunte. In promozione viaggerà invece l'Atletico Gela che si reca a Santa Croce e Camerina dove troverà una squadra in grande risalita e che ha tratto forte spinta negli ultimi tempi da quando è arrivato nel team Ibleo l'attaccante gelese Peppe Domicoli tra l'altro ex proprio dell'Atletico Gela. I giallorossi di Mister Misiti sono in corsa per i primissimi posti della classifica e non possono certo permettersi di fermarsi giusto ora. Anche perché Capitan Davideace e compagni vincendo a Santa Croce e Camerina potrebbero approfittare del big match tra le prime due della classe che domani vedrà di fronte al Dino Liotta, Licata e Nissa.